Cari lettori, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo su una giovane ragazza che nonostante sia amata dalla sua ragazza e un futuro promettente si sente profondamente insoddisfatta e diversa dai suoi compagni di studio. Afflitta da un senso di inadeguatezza, solitudine e bisogno disperato di amore, si trova intrappolata in un disagio che ha sempre avvertito, ma che nasconde al resto del mondo. La lettura di questo libro offre l'opportunità di comprendere meglio la realtà dei Groenlandesi e di avvicinarsi a una discussione fondamentale sulla condizione umana. La trama del libro La Valle dei Fiori della scrittrice Nivjak Corneliusen, pubblicato dalla casa editrice Iperborea, è la seguente. Vive a Nuuk, la capitale della Groenlandia, è giovane e ribelle, ha una ragazza che la ama e un futuro che l'attende in Danimarca, dove sta per iniziare l'università. Eppure si sente troppo grossa, troppo scura, troppo diversa dai compagni di studio, e mentre tutti a casa credono che stia spiccando il volo verso la desiderata libertà, lei sprofonda in un disagio che in realtà ha sempre avvertito, un senso di inadeguatezza e vertiginosa solitudine, un bisogno bruciante di amore unito a una paura di deludere e di donarsi con cui finisce per far male agli altri quanto a se stessa. Un malessere che da bambina la portava a nascondersi sul Monte Corvo, nella tana di uno spirito della montagna, e che prende il sopravvento quando un lutto la conduce nella natura maestosa della Groenlandia orientale, fino a una valle di fiori di plastica, piena di croci anonime e dimenticate. Così finiscono i tanti giovani inuit che ogni anno si tolgono la vita, nel silenzio del sistema e delle loro stesse famiglie, un tabù di cui nessuno vuole parlare. Inesorabile come una bomba a orologeria, la valle dei fiori racconta in presa diretta, attraverso la voce cruda, fresca, ironica, ma sempre più concitata e furente della protagonista, il tracollo psicofisico di una ragazza che sente il mondo chiudersi su di lei finché non riesce più a stare nel proprio corpo. Un racconto di una schiettezza feroce che si fa potente poesia, urgente e autentico quanto difficile da dimenticare, un romanzo che va dritto al cuore dell'odierno dibattito sull'identità dando voce ai groenlandesi del XXI secolo, cresciuti in una società di matrice coloniale e smarriti ai margini dell'Occidente globalizzato. Grazie per l'attenzione. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.